Settimana decisiva questa appena iniziata per gli acquisti destinati al Natale. Come sempre la parte del leone la fanno gli indecisi che sono ancora un numero ben consistente e che come di prassi fanno tutto all'ultimo momento. Ma questo che è appena passato era un fine settimana cruciale dato che domenica prossima è già vigilia e si è impegnati in cucina e ad allestire la cena. Ma a guastare la festa a commercianti ed acquirenti ci ha pensato il maltempo che sabato con un pomeriggio freddo, piovoso e poco invitante alle uscite ha desertificato il centro in un orario cruciale come quello delle 18. Ma allora qual è l'umore e l'andazzo commerciale del centro di Fano per questa settimana? Ancora non si è mosso molto. Ieri c'è stato parecchio movimento però all'interno dei negozi non c'è stata tanta gente. Poi se venivate il venerdì e il sabato proprio forse la pioggia o che altro non c'è stato niente. C'è un po' di movimento? Sì sì movimento ce n'è abbastanza stanno andando bene sì sì. Il sabato c'è stato un po' di pioggia? Il sabato con la pioggia è stato un po' ma ci siamo c'è stato comunque un movimento in base a quello che ci aspettavamo appunto con la pioggia movimento ce n'è stato poi ovvio diluviava quindi. Allora questi primi giorni di acquisti come stanno andando? A giorni alterni veramente molto a giorni alterni diciamo anche che la pioggia dei sabati non ci ha aiutato sabato era stato un po' un primo deterrente. Ieri invece c'è stato un bellissimo movimento cioè c'è voglia ma ancora ci sono un po' tanti pensatori quindi penso che tutto si svolgerà proprio quest'ultima settimana a ridosso della vigilia come succede ormai da due o tre anni a questa parte insomma. Il movimento è abbastanza discreto facendo i paragoni con l'anno scorso ovviamente è un pochino più a rilento però dai sta rispondendo bene diciamo il discorso del Natale. C'è molto movimento la città secondo me soggettivamente a mio parere abbastanza illuminata discretamente a confronto di altri anni dove magari era un pochino meno illuminata e organizzata mentre quest'anno ho visto una bella organizzazione, un impegno importante. Sì delle situazioni dove piano piano miglioreremo e cercheremo di essere anche noi a contribuire a tutto ciò che rimane il Natale e migliorare il Natale.